Ciao amici, bentornati in questo nuovissimo video, come sapete è uscito supereroi per caso e sono uscite anche delle nuove date perché il venerdì 31 gennaio saremo a Salerno, mentre il primo febbraio saremo a Napoli e il 2, pensate un po', saremo a Foggia, vi lasciamo nelle info, tutto è qua sotto, mi raccomando è tornato il video del frullatore con un ospite speciale, godetevi il video, mi raccomando, condividetelo ovunque comprate il libro Ciao ragazzi, ciao ragazze, mi trovo qui con questi personaggi, lui è stato appena vomitato l'anima e quindi adesso c'è qua un frullatore, voglio farmi frullare delle robe delle robe, delle robe, delle robe, delle robe, frullatore, frulleremo, 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 facciamo proprio questo strumento perfetto per me, cose che non solitamente non si frullano, esatto, tipo, sei pronta? no, lui si chiama Brave Vat, ha un nome? si ha un nome, e anche dei sentimenti, noi abbiamo, noi siamo proprio uniti sentimentalmente si davvero dormite insieme, ve lo portate in casa, guarda guarda lui si arrabbia pure, salutalo solo si incazza bene, io adesso mi sposto un attimo, vieni da parte più, perché non siamo più idoneo ah, la moriamo un attimo? vaffanculo proprio occhiali perché bambini, bambini che stanno guardando non fatelo a casa non fatelo a casa e se lo fate si, voglio vedere qui c'è la mia ma non lo fate ma se lo fate usate le protezioni alle quattro usate solo il frullatore con la punta rotonda eh, a me non mi stanno gli occhiali ma sei pronta? oh mio dio primo oggetto patatine che spreco della mattina non si devono mangiare sì ma queste non si devono mangiare non si devono mangiare tutto così puttate puttate ma davvero la raga? si è per la scienza però è coraggiosa è coraggiosa, è felice, le patatine poi voglio vedere quando mettiamo le bombe dentro aspetta, aspetta calma, sei partita troppo aggressiva è un passo dei fonzis raga ma come si che funziona? devi muovere aspetta, sto fermo questo è una donna a cui piace il brivido sì perfetto alla donna piace l'uomo rude? fai capire come si mette dentro devi sculacciarlo cioè vabbè che brilatore da quattro soldi raga stai offendo brei pat brei pat c'ha i sentimenti guarda che ti brilla non si offende brei pat ragazzi cioè più di così effettivamente ah ma ha fatto tappo la patata serve una spatola mi ha mangiato così tanto da piccolo ho provato in digestione ho vomitato tutta la notte quindi direi che non è caldo allora adesso guarda il posto non è che mi sto divertendo è l'ospite più preso bene sì nella storia allora ha frullato però ha avuto delle problematiche non mi piace cioè doveva frullare anche la bella secondo me si è un po' emozionato perché ha visto te e quindi insomma un passo da prestazione un voto basso un voto basso un voto basso un 6 dai è sufficiente è sufficiente a me se non vale i soldi che possa prossimo oggetto prossimo oggetto prossimo oggetto la matematica non è un'opinione e quindi ce ne sbattiamo il cazzo tu dici sai cosa ho usato i calcolatrici? mettere dentro i biglietti vero belli bei consigli bei consigli per i ragazzini che vanno a scuola vabbè quindi abbiamo un oggetto elettronico io adesso avrei un po' più di paura lei è l'odore potrebbe essere altamente tossico adesso devo non fare parte ma non ah 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 Ah, ma, ma, ma sbagliata. Attenzione a mettere l'esiro. Butta qui. La mascherina, Ludovica. Non abbiamo soldi per pagare le sfuglie azioni. Allora, avevi offeso Braveheart, Ludovica e ti asmi, il titolo? Non ha furto. Cioè, queste cose quale, non la... Ma è la plastica, ma non vale. Ho capito, ma la guardi... L'ha polvenzata. Non esiste più, non ti asmi. Hai mai infollato questa roba qua? Eh, sì, ti giuro, all'icondolo, ho calcolato il secondo. Circolazione, insieme al ceto di mele, ceto di mele e cacolatrici Ma ci sono una misura e dico, ma cosa, quanto muoce? A prima mattina A parte che già mi fanno tutti i marroni, quindi Uuuu, la tocca piano Ma se non c'è chi è che l'ha portato? L'ho portato io, allora, quant'è noioso sbucciare la frutta secca? E' un tantissimo Dipende dalla frutta secca Quindi ci penserà breve, anche se poi mi sa che non c'è E' un maggiore niente Conoci californiane Effettivamente sei sempre abituato a romperle con le mani, con l'aggeggio Vai Ehi, guarda, bisogna masticare una babassa Eeeh, mi sa che uno basta Vai! Adiótalo! Stanno scendendo! Stanno scendendo! Stanno scendendo! Dagli una botta, sa Non scendendo! Esatto! Eeeh Ok! Aspetta, aspetta, aspetta! E' vero! Oh! Vai su di me, vai di là Non è buono Attenzione! Ho già pensato io a fregarti la roba della borsa Ah, perfetto, grazie Quindi Ho preso uno specchio Come si ha preso? No, raga, lo specchio non ci può rompere Porta sfiga Era dando errore, raga No, raga, raga Raga, errore, errore Ha detto di no, ha detto di no Errore 07 No, la sfiga No, no, la sfiga No, no, la sfiga Raga, no, perché l'avete fatto? Secondo me sono più belli i frullati Per i specchi Perché frullato è meglio Raga, no Voi mettete a dura prova la salute delle persone Noi siamo assicurati Ha la mascherina Ma dammi la mascherina Non farla più soffrire C'è il da Silicon Valley qua dentro Scappa, scappa Via, via, via Raga, via, via Attenzione Sorri Ci sono Apri Ho capito Ma direi che ha vinto Guarda qua tutti i problemi sottili che ti hanno un cancro Ludo Ludo Lo specchio Il voto a brevat Ludo Non c'è niente Detonato Distrutto Vince Ma non mi avevi detto che abbiamo fregato anche un'altra cosa Oh, eccola lì Mi sento Pagani Entriamo senza Pagani Entriamo senza Pagani Scappata E' l'alcol Ah ma tu sei barnazzato spavalda qua faccio io No, si parla da sentire esplode scusami Mi sento Pagani Madonna ragazzi Ma no, aspetta no, adesso voglio respirare Ma cosa? Ma sei basso? Tu sei tutto blippato È un complimento Olè Buona tarte Raga mettiamolo su un quadro lo vendiamo per i 4 milioni E' sicuro nell'aria Ma noi siamo quelli che pippano la colla Noi ci schieffiamo il profumo Il prossimo spettacolo Braveheart distruggerà il sogno di molti ragazzini Che merda che siete Ma no, pensavo che volessi fare un regalo a Ludovica Ma no, pensavo che volessi fare un regalo a Ludovica Vai ma non puoi È una crudele In effetti ora che ci pensano è vero brutta come cosa Però su di cazzi Andiamo Aspetta vai mettiamo una faccia Mettiamo una faccia bellina che si vede No povero Decidiamo che dovessi fare un regalo a Ludovica Io non la faccio Non la faccio No 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 Braveheart tu che dici Ludovica Ludovica Eh Ludo attiva Uccidilo orzetto Uccidilo orzetto Uccidilo Non è mangiabile zi Non è commestibile No Ce l'ha un unicone Ce l'ha una corda Io ho parlato una cosa che Io ho parlato una cosa che Che potrebbe creare scalpore Potrebbe creare soddisfazione Possiamo pimpare il gesso Ecco Mi stavo preoccupando di quel dettaglio Vabbè ma non l'hai mai fatto da piccolo No C'è un problema C'è un problema Mascherine importanti Perché qua il gesso Prego Allora mascherina prima Vai accendi Non aprite il tappo mai nella vita Non aprite quel gesso No No Ma è troppo forte Ah mascherina Oh Vesta ciccio Vesta ciccio Vingardum la piota Nooo Mi ha matto Ha ricamato Heizze scobar Ecco come facevano i narcos Ma no Con la prevagata PayPal Ma che poverata Fra 100k sulla PayPal Quai fra Quanto sono ice Se ne metti così tanto a muori Tu davvero ti vestiti su quella roba qua? Ma no No ma io ho dietro una roba del genere Ma è per tutti Sono cinque Ma fatela da solo Ma vai Ultimo Il cantante Non volete frullare? Vediamo frullare ultimo Se vuoi venire ultimo a fare un video con noi C'è il mio schifo Non è venuto C'è il gomore la tagliano Ma cosa è sta roba? Ho portato un piccolo souvenir da casa Come sapete sono appassionato di candele Le faccio in casa Però le mie non ve le porto Quindi ho comprato queste Ma è comunque per partito dal gruppo? Fatemi capire Ah ok A me piacciono i falsi complimenti L'ho detto Dai faccio con io C'è un Ludovica che fa voi aprire Ehm 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 Bello questo video educazionale 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 Esiste Come parola? Non so se si Oh è un carterotto Come è una bomba Ehm Che cazzo però Ma che sta succedendo? Tira Oh Ci siamo Vai cazzo 3,2,1 No Eh che bello Anche questo deve essere un'altra d'arte Vedi creava anche la polvere stellata qui eh Questo è il mio pensiero Così ti ricorderai sempre di me Che bella merda Che bella Bello Questa Questa E quella delle noce Questa è la più bella Per altri video demenziali seguiteli eh Ciao Cos'era un'offesa? No mamma Se volete un po' di fighe seguitelo su Instagram Ragazzi questo video è tutto Lasciate un like Comprate il fumetto Ehm Ci vediamo nel prossimo video Mi raccomando consigliateci cosa frullare nel prossimo video Numero Lo Ciao Ciao